ragazzi frittazza ai peperoni questa volta sono congelati quindi li cuciniamo prima con l'olietto e li lasciamo qua i peperoni si stanno facendo un bel sughettino croccante grana uova tac e andiamo a sbattere come sa fare soltanto insomma l'acqua per girarmi del polso o del palese che il sughettino si è assorbito e quindi non crea non hanno acqua l'uovo fondamentale sta sfregiacchiando quindi il momento di cottura massimo del peperone è gustoso utilizziamo lo stesso olio di cottura luterone e versiamo dentro nuovo usiamo una forchetta e non quello per acciaccare il peperone e bucarelliamo per far scendere giù l'ovetto pentola perfetta guardate come si come prende ai bordi e continuiamo a lavorare così finché non abbiamo la nostra fridazza un po dovremmo girare ovviamente non è tutta densa però andiamo a girare col coperchietto come vedete voi la prendiamo un attimo appoggiamo sul coperchio e adesso devo capire prima che diventi bollente usciata un amico mi ha insegnato una tattica se la fai fare a fuoco lento si gonfia a dovere io l'ho messo al minimo vedete quasi anche sbrucciacchiato un po perché l'olietto era maturo e la lasciamo fare da quest'altro lato fra due minuti che goduria frittadina insalatina col bicchierino dei bucci